Insomma, il lavoro è pesante, il lavoro è un incidente pericoloso. Chiunque può trovare un lavoro, ma devi essere in gamba per vivere senza e non sentirne la mancanza. Si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Attento dai a non confonderti e non permettergli di ucciderti. Ma non mi sembra un gran vantaggio la catena di montaggio e non mi pare naturale, no, no, un impiego interinale. La mia vita è spesa a schivarla a fresa. Una vita è spesa a schivarla a fresa, a schivarla a fresa, a schivarla a fresa. Il ricatto del bisogno